Bomber Mario Urbini, quest'oggi qui a Vinovo è arrivata la Coppa di eccellenza contro il Borgaro, è stata una partita bella, combattuta anche sofferta, è arrivato un trionfo ai supplementari, c'è da essere contenti e felici questa sera. Sì, assolutamente, festeggeremo fino a quando si può perché ce la godiamo, è stato un percorso lungo, pieno di difficoltà e oggi secondo me era la partita più difficile, loro bravi a giocare così, noi siamo una squadra che ti fa giocare male, io sono arrivato a ottobre e da quando sono arrivato vedo questa squadra che cresce e dal punto di vista fisico è una squadra che non ti fa giocare, ti fa giocare male, ci crede sempre, non molla mai, nonostante la partita comunque loro hanno avuto delle occasioni perché hanno sbagliato il rigore, io faccio complimenti a loro, però il carattere di questa squadra non si può mettere in discussione perché se la gioca con tutti, nel nostro girone ce la siamo giocati con tutti, ce la giochiamo con tutti, abbiamo battuto le corazzate, come Rivoli, Albese, quindi siamo venuti qua con la consapevolezza di avere il rispetto di un avversario ma di non aver paura. Poi queste partite sono decise comunque da episodi, una zampata mia e poi alla fine Galasso che la chiude, siamo contenti, festeggiamo, va bene così. Fra i meriti sicuramente c'è quello di essere riusciti a resistere in un secondo tempo che è stato veramente difficile perché il Bolgaro ci ha creduto poi dopo aver pareggiato, quindi ecco qui il carattere di cui dicevi aver tenuto e poi nei supplementari, insomma la tua zampata un po' dal nulla che ha cambiato completamente il volto dei supplementari. Scusa se parlo un po' più veloce, ricordo che un anno vinsi una partita, playoff per andare in D, dove la stessa partita, loro una squadra di palleggiatori, però lo stesso risultato 3-1. Purtroppo noi siamo, no purtroppo, per fortuna noi siamo questa squadra, siamo una squadra un po' come quella di Simeone, un po' come l'Atletico Madrid con un condottiero che è il mister a cui io dedico questa vittoria perché è il primo che ci crede, è il primo che crede in questo gruppo, è il primo che lavora come un maniaco, quindi io ero fiducioso per questa partita perché ci sono uomini oltre che ragazzi giovani che ci tengono, quindi siamo contenti, siamo contentissimi, va bene così. Con questo entusiasmo vi potete catapultare verso la seconda parte di stagione, avete chiuso molto bene il 2021, vi siete messi in una posizione di classifica ottima, adesso potete cominciare anche a raccogliere grazie all'entusiasmo di questa sera. Sì, sì, ma l'obiettivo è quello di cercare di vincere tutte le partite, poi ovviamente ci sono gli avversari che hanno qualità, ci sono tante situazioni, però la mentalità di questa squadra è quella, affrontare tutte le partite con carattere, con atteggiamento positivo, con delle scelte tattiche anche importanti perché ci sono ragazzi in mezzo al campo, io li voglio citare come Sena e Ozara che hanno polmoni anche per gli altri che magari corrono un po' meno, quindi il mio augurio è quello che questa squadra tenga sempre questo DNA e allora ci giocheremo tutte le partite con chiunque alla pari.